Chi si attacca alla terra, ad essa resta attaccato. È meglio staccarsi poco per volta, anziché tutto una volta. Pensiamo sempre al cielo. Pace bene a tutti, fratelli e sorelle. Chi si attacca alla terra, ad essa resta attaccato, dice Sampio. È meglio staccarsi poco per volta, anziché tutto una volta. Pensiamo sempre al cielo. Allora l'uomo d'oggi, l'uomo moderno, ecco, vuole essere attaccato alla terra. Non pensa l'uomo moderno a una vita eterna. Non pensa che noi siamo qui in esilio, che un giorno dovremo lasciare questa terra per avere l'incontro con il Signore, per avere l'incontro con il Buon Dio. Non ci pensano, molti non ci pensano. Invece Sampio ci esorta a pensare a questo. Sapete quante volte lui ha pregato e ha fatto pregare, solo che le sue figlie spirituali pregavano al contrario. Lui diceva, pregate per me affinché il Signore mi porti via. Non voglio stare più su questa terra. E invece le figlie spirituali pregavano al contrario, dicevano, no, tu devi stare su questa terra. Noi possiamo anche andare via. Pensiamo alla sua figlia spirituale di Foggia, la nobile donna Raffaelina Cerase. Padre Pio gli aveva detto di pregare affinché lo portasse via. E la donna Raffaelina disse, no, sono io che devo andare via. Voi padre dovete stare sulla terra perché il mondo ha bisogno di voi, del vostro aiuto. E allora, noi, vedete, Padre Pio ci insegna che dobbiamo avere questo distacco. Lui pensava sempre al paradiso, al paradiso, alla vita eterna, alla vita eterna. Noi ci pensiamo poco, ci pensiamo poco a questo. Siamo attaccati troppo alla terra, alle cose della terra, ai beni materiali. Non vogliamo lasciare questo, non vogliamo lasciare quell'altro. Si litiga per questo, si litiga per quell'altro. A che serve, dice Gesù nel Vangelo, a che serve guadagnare il mondo intero se poi noi abbiamo perso la nostra vita, cioè la vita eterna. Che cos'è la vita eterna? La vita per sempre con Dio. Quando quella povera santa Bernadette ha visto la Madonna a Lourdes, dopo terminate le apparizioni, Bernadette disse, vorrei poter morire per rivederla ancora. perché aveva visto nella Madonna che cosa? Il paradiso. E siccome San Pio godeva di questo paradiso terreno anche, perché vedeva la Madonna, parlava con Gesù, parlava con l'Angelo Custode, ecco perché era stanco di stare su questa terra per volare al cielo. Ecco perché esorta i suoi figli spirituali, non attaccatevi alle cose della terra, ma pensate di più al paradiso. Come diceva San Filippo Neri, paradiso, paradiso, paradiso. Pace e bene a tutti.